Sceguitemi! Piacere! Giacobini Gloria! Oh carabinieri! Allora non mettiamo ancora! Giacobini! Oh piacere! Gloria! Piacere! 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 Maria cosa fai? Non chiamarlo che ha già cosa il suo! Ci mette 3 minuti, lo sai? Capito mamma ma siamo ancora di casa alle 20 e 15 Non posso chiedere già! Aspetta, 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 basta, 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 no, non me ne frega niente, non me ne frega niente, se sei arrivata a metà coscia, tu le mani addosso non me le metti più, hai capito? Io la ceretta non me la faccia più, mai più! Ma perché entri nell'anagrafica del cliente col nome anziché col codice? Perché ci vuole coraggio anche a scappare, anche a correre ci vuole coraggio, e io non l'ho fatto mai, ed è bellissimo! Dacopini, sì, ma tu non voli mai!